A Clusone sono in programma tre interventi per migliorare e rendere più sicura la viabilità. Nicola Androletti ne ha parlato con l'assessore lavori pubblici Bortolo Valduzzi. Sono interventi che riguardano la viabilità, per la verità non di valenza strategica importantissima, ma ugualmente significativi perché riguardano soprattutto la sicurezza della circolazione. Il primo è la messa in sicurezza della strada per San Lucio. Dove verrà rimodellata il tracciolineo della strada, la livelletta, e verranno messe nella sponda valle dei garrail in acciaio. Questa è una strada che ha subito una serie di vicissitudini, definiamole amministrative, e finalmente si è arrivati a questo tipo di lavori che consentiranno la percorribilità della strada in condizioni di assoluta sicurezza. Il secondo intervento riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale in località La Bussola. La Bussola è purtroppo tragicamente un posto dove negli anni, in circa vent'anni, sono morti sei persone per incidenti stradali, e soprattutto la circolazione dei pedoni e dei ciclisti è veramente compromessa da questa strada, da questo flusso di traffico che corre in trincea sostanzialmente, per cui sul lato destro scendendo verso l'overe verrà realizzata, a cura di privati, la pista ciclopedonale. Il terreno e la superficie è stata messa a disposizione dal ristorante La Bussola, che contestualmente a questa operazione rimodellerà anche l'accesso alla struttura alberghiera, che attualmente sfocia e si attesta in una posizione estremamente pericolosa. Questo tratto di ciclopista pedonale di fatto allungherà quella che la provincia ha realizzato in corrispondenza della rotatoria di Iberia a Brescia e quindi consedirà un accesso e un godimento ottimale della circolazione. L'altro intervento, approvato recentemente dalla Giunta Comunale, è il collegamento viario tra la via Carnovali e la via Trussardi Giovanni Bolpi in località Fiorine. È un intervento nuovo che ha richiesto un accordo in termini di realizzazione con la proprietà che ha ceduto con un buonario accordo l'area su cui insiste il sedime stradale. È un intervento di 300 mila euro che nei prossimi giorni sarà in fase di appalto. E quindi prevediamo che per la fine dell'autunno possa essere agevolmente realizzato.